Si sa la polenta con passione, si fa in padania, si fa in padania, ma per coltivare un pomodor è necessario avere il sol, poi la cotoletta è tradizione della padania, della padania, ma per coltivare con passione ci sono tante, tante zone. La padania, la padania è una splendida regione, ma la campania, la campania non è soltanto un gran bidon.